Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, 5 km di coda con tendenza all'aumento per veicolo fermo in avaria al km 268 tra Calenzana e via 1 variante verso nord. Sempre in A1 coda in uscita a Firenze e Scandicci per chi provenga a Bologna. In A11 rallentamenti e code per traffico verso Firenze, tra Prato Ovest e Bivio con l'A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze per Etola. E arriviamo in Fipili per lavori, coda di 2 km verso Firenze, tra Empoli ed Empoli Est. Si tratta di lavori di messa in sicurezza al viadotto Ponzano. Troviamo code per lavori anche in carreggiata opposta tra Montapoli-Valdarno e Ponte D'Era Est. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, restringimento di carreggiata e code in aumento in Viale Strozzi per incidente. Muoverse in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, città meropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio. Grazie a tutti.